Gli altoparlanti monitor da studio sono senza dubbio la parte più cruciale dell'intera configurazione del tuo studio di registrazione casalingo o professionale che sia. Senza un buon sistema di monitoraggio non puoi mai essere sicuro di ciò che stai registrando sul disco e di come i tuoi mix si tradurranno in altri sistemi di riproduzione. Il monitoraggio in studio è probabilmente anche la categoria di prodotti in cui si possono riscontrare le maggiori differenze di qualità dalla più scarsa alla migliore non essendoci un unico design ideale allo stesso modo dei convertitori digitali. Sebbene un paio di altoparlanti hi-fi possano sembrare un'alternativa economica questi saranno sicuramente progettati per dare un'interpretazione lusinghiera piuttosto che onesta del segnale. Adam Audio con il suo T5W propone un monitor near field ovvero a distanza relativamente ravvicinata a due vie estremamente conveniente e ottimizzato per le piccole sale di controllo e di mastering. Con il suo woofer da 5 pollici la risposta in frequenza dei bassi del T5W si estende fino a 45 Hz. Il nuovo Twitter UART una soluzione rivoluzionaria per l'uso nella registrazione e nel messaggio ad alta risoluzione in progetti di dal budget limitato arriva fino a 25 kHz ed è accoppiato a un sistema di propagazione di precisione con gli stessi attributi di controllo della dispersione della propagazione ad alta frequenza HPS utilizzata nei monitor di punta della serie S di Adam Audio. La dispersione altamente uniforme delle alte frequenze favorisce una zona d'ascolto incredibilmente ampia che libera l'operatore dall'essere incollato a una posizione di mix rigida mentre lavora al missaggio o al mastering. Un cabine smussato con una porta bassa, reflex posteriore e un ingombro ridotto consente il posizionamento in qualsiasi punto della stanza non importa quanto piccola essa sia e contiene crossover e equalizzazione del driver controllate da DSP nonché connessioni analogiche multidirezionali. Alimentato da un amplificatore in classe D da 50W per il woofer e un amplificatore in classe D da 20W per il Twitter UART, il T5W produce SPL fino a 106 dB per coppia di monitor. Eccellenti caratteristiche acustiche, dimensioni ridotte e un eccezionale rapporto costo prestazioni rendono questo monitor da studio perfettamente adatto per l'uso in piccole sale nella produzione di musica, video e broadcast. Nonostante il cono da 5 pollici i bassi sono piacevoli e profondi, medi bilanciati e alti perfetti e definiti mai fastidiosi. Inoltre posizionati a dovere lo sweet spot di questi monitor è davvero ampio, molto comodo il volume individuale posteriore per poter regolare con precisione il volume left turn right e per avere un'immagine stereo bilanciata. Se hai bisogno di sentire più bassi, il T5W è 100% compatibile con il subwoofer Alam Audio TDECS. Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a visitare il sito www.cecherinimusic.com dove trovate tutte le caratteristiche tecniche di questo prodotto e non mi resta che ricordarvi di cliccare mi piace, condividere questo video, commentare questo video e iscrivervi al canale YouTube di Checkerini Music. Un saluto a tutti da Cesar Martignano. Grazie a tutti.